Bene, siamo qui in uno degli ultimi vigneti della nostra azienda, noi produciamo i nostri vini eccezionali, da questo Nerello Calabrese si fanno il rosso Terre di Gerace, dal Greco Nero si fa il Pozzello che il nostro vino riserva sempre rosso, poi abbiamo un Terre di Gerace bianco e uno rosato che sono la linea base e poi abbiamo due chicche che sono gli spumanti e il passito, i cento camere, che sono uno spumante bianco, uno spumante rosè, metodo champagne o metodo classico, come si dice in Italia, e un passito greco di Gerace, stiamo rilanciando questo vecchio vitigno e questo vino che si erano persino nel tempo. Poi il resto in azienda produciamo praticamente tutto, quindi abbiamo i grumeti, abbiamo uriveti importanti, abbiamo tutto quello che riguarda la parte orticola della produzione della filiera, facciamo il miele, facciamo addirittura in questo periodo anche la spirulina, che è un'altra cosa. Quindi siamo un'azienda molti funziona.